15 anni fa era un distributore di benzina e diesel, oggi è un distributore di sporcizze e degrado. Ci troviamo in via Ponchielli, angolo via Solferino e a segnalare a Rossini TV questa situazione è la signora più anziana della palazzina a fianco, esausta dello scempio, che da tempo si trova davanti agli occhi. L'erciume che è presente 365 giorni l'anno, ma la condizione di vivibilità diventa insostenibile soprattutto d'estate, quando zanzare e altri insetti, attirati da caldo e cattivo odore, infastidiscono la quotidianità dei residenti di quella zona. Erbacce e piante incustodite che a vista d'occhio rendono indecorosa l'intera area, in un punto in cui ogni giorno passano centinaia e centinaia di veicoli. Tetro e Fatiscente è anche l'ultimo baluardo di ciò che è rimasto della vecchia stazione di servizio. Il capanno in mattoni e calcestruzzo è infatti diventato più una baracca che altro, con murales in tonaco decadente e parti del tetto dalla vita breve a regalare un aspetto poco invitante e accogliente. Aspetto da considerare anche in vista di Pesaro, capitale della cultura 2024. A colorare di negativo l'intera area recintata ci ha pensato anche chi, incivilmente e fregandosene del rispetto dell'ambiente e della comunità, ha gettato rifiuti a terra scambiando quel contesto per una discarica. Ad intorpidire le serate dei cittadini ci stanno pensando anche i topi, che dall'erbaccia alle fogne e dalle fogne alle erbacce passano in area al buio tra cespuglie e foglie spaventando i residenti. Quegli stessi residenti che pretendono da anni una risposta immediata da parte delle autorità competenti, sperando in un quanto mai necessario provvedimento, ma del quale ancora non hanno visto traccia.